Ciao a tutti ragazzi, sono Sgaragaro e vi do il bentornati sul mio canale per la sesta parte di Shadow of Tomb Raider. Eravamo arrivati in questo punto qua, in mezzo alla foresta, abbiamo visto delle bestie strane che attaccavano uno delle guardie che era là, uno dei cattivoni. Non ho idea cosa sia, non spero di non incontrarli perché sembrano abbastanza brutti, ma come vi dicevo, qualcosa di super naturale, tanto per cambiare ci deve essere per forza, e non sarebbe un Tomb Raider, se no. Quindi, sto registrando dove l'ho lasciato l'ultima volta, quindi sto continuando, anche se voi vedete il video tra due giorni rispetto al video di prima, e ovviamente quindi sono ancora qua in game. E andiamo avanti a dove abbiamo lasciato e vediamo che cazzo di bestie era quella. Ah, qualsiasi cosa fosse l'ha ucciso qua, il che mi piace. Oh, li fa... Please calm down. Can you tell us what happened? Allai, Salomon. Claws, Tis. They hit us. Una. Just screaming, bones. It's over, you're safe. Ok. Gotta find it. dobbiamo farmi sgamare come un idiota beh loro in questo momento hanno paura che ci sia qualche bestia strana in giro quindi teoricamente vieni vieni qua torna nell'erba torna nell'erba alta brava Lara meglio che una cacciatrice di Pokemon ce n'era anche un altro qua se non sbaglio infatti è quello lì bastardello tu sei visibile e sento dei rumori di sottofondo che non mi piacciono quindi suppongo che io potrei permettimi di andare in giro però ho un po' paura di essere sgammato oh là c'è uno che è porca evo cosa ho appena rischiato ragazzi rambolato micio 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 vieni qua vieni qua vieni qua come è qua cazzo perché stanno venendo tutti qua hanno i sospetti eccolo lì amico sei rimasto soltanto tu sei rimasto sai ok c'è qualcun altro che può vedere oh cazzo no è sbueno stanno proprio venendo tutti qua stanno venendo se non ti vedrebbe nessuno adesso girati di là girati di là vai via vai via vai via vai via no non venire proprio qua non venire l'arbalta amico vai in torno a nera torno a nera arbalta ah qua c'è ancora una praticamente lo killate tutte di stealth la cosa mi rende parecchio contento con me stesso avete quasi sparagli una freccia a quello ma lo voglio accoltellare è più soddisfacente micio 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 vieni qua mi faccio sgamare come un idiota e lo stealth va a puttane com'è com'è ce n'è ancora qualunque cosa fosse qualunque cosa fosse qualunque cosa fosse non la voglio palesemente incontrare per nessun motivo al mondo aspetta se è alzata vuol dire che non ci sono più nemici ok esploriamo per vedere che non dimentico niente di importante in giro tipo questa roba qua i nostri ami le potenziamo per bene appena arriviamo in città raccogli raccogli qua raccogli tutto cosa è questo raccogli una bomba a mano ho ammazzato qualcuno qua a queste parti ho ammazzato mi sembra no perché perché Lara volevo vedere la roba in giro stai buona allora questi sono tutti i alberi direi che non c'è nulla di importante ho depredato tutto quello c'era di depredato andiamo avanti allora via via non stiamo a scoprire cosa sono quei versi vedi papà che belli sti suoni ragazzi oddio vai sotto là vai sotto là scappa 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 Lara scappa se c'è un suono tu allontanati boi che c'è o che c'è oh io Corri via Qualunque cosa fosse È ora di scappare Lara Tuffati tuffati Sì vabbè non puoi sentire Il suo rumore sott'acqua Ultra instinto Scappa scappa là Uh legno 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 Qua non sento più rumori La cosa mi tranquillizza un pochettino Cacciare Uccide e scuola gli animali Per ottenere risorse Con cui fabbricare attrezzature complete Che animali ci sono qua? È pieno di animali qua Andiamo a caccia allora Oh Ce l'hanno il cuore in vista Yes I purcedi 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 Fai frecce Frecce Quindi Scuoia È per fare le pelli questo E cos'è l'altra cosa? Ah il grasso animale Giusto Come nell'altro Quindi quando manca il grasso Bisogna killare in giro bestie E la cosa triste È che sto finendo le piume Quindi suppongo che Qualche pennuto Devo pure farlo fuori Giusto? Tipo te C'è anche un altro là Andiamo avanti di più Faccio anche Livelli dell'abilità Monolite Quei ciò avanzato Non lo potrò mai leggere Eh sai sei Oh fiume Qua ci sono sicuro Tua mamma E vabbè Ce la fai l'ora salire Per piacere Brava Nel tanto ti ricordi Come si sale E Oh No Come è? Tanto raccoglio la piuma qua Bravissima Ah 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 Piume 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 Ho visto anche degli altri Animali qua in giro Visto Poi raggiungo la foresta Cos'è? Un altro purceddu Purceddu No Fuck L'ho perso Oh lì che mira Grande sgara Io so Io so che Adesso mi metto a cacciare Tra un po' Arriverà qualche bestia A cacciare me Andiamo avanti va Che se no Se no qua mi tocca Certo la flora La fa uno locale Oh C'è Du Che bella uscita Che scappa eh Se è quello ferito Per giunta Vedi Props a lui Ok Torniamo a 24 frecce Che mi piace parecchio E devo andare di là Torniamo in città E hop là E hop là là E hop là là Adesso turnica E metto i piedi qua Un campo Potenzio al volo le cose Ok ho potenziato un po' di roba Ho messo un po' di talenti Ho messo il talento delle trappole Quello che vi dicevo la volta scorsa Che proprio in caso di Dungeon come quelli Posso vedere Scusa Posso vedere a meno sia qualcosa Incontro a John e le robine Attendi lo streaming Ah Bello Bello quel blocco Jonah We're up the stairs Hey Have you been down there? We were waiting for you What do you think we'll find? The mural showed a series of trials Che strano Sono rimasto da solo per l'esima volta Comunque non vorrei Essere Pagnoso Cioè ma E' palesemente legno Lo spacchi Lo spacchi Lo spacchi Lo spacchi No Ancora roba sott'acqua No Posso andare di là Ma non ci saranno i suoi tipi ragni A rompermi i coglioni Vero? Figuriamoci se non ci sono Eeeh Che belli i livelli sott'acqua Presunto ho messo il talento Che posso respirare di più sott'acqua Cioè che resisto di più In apnea Che è una cosa molto importante Oh signore Ma se doveva venire Jonah di qua Come faceva? Eeeh Veloce Lara Veloce 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 E come mi mancava il fiato Ci so Cos'è quella? Una murena? Bene Oh no Ci sono anche queste bestie qua adesso Perché? 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 Create i livelli sott'acqua Brutte bestie Che non siete altro Bestie di satana Ma qua abbiamo imparato Che posso respirare Quanto voglio C'è qualcosa di importante La della roba La un'altra La murena Ora come ora È lontana La facciamo passare E come è passata Mi immergo veloce Vado qua Brava E già che ci siamo Sulla via del ritorno Quindi ancora un po' d'aria Capigli E riguardiamo Dove era là Non di qua No Dove devo andare? Di qua Giusto? Sì Perfetto Raccoglione Mentre sta bella cosa qua Nooo Non sono morto Che palle Ah no Posso coltellarlo Coltella Fa un culo Muori Putta bestia No Oh Dov'è? Vai 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 No muoio malissimo Muore malissimo Cosa ho appena rischiato Jonah Che strano Non sentiamo più gioco Oh minerali Scoperto che questi minerali qua Si possono vendere Vai giù Bello il suo Come ci arrivo là Si è sicuramente un posto per arrampicarsi Vero? Di là E hop là E hop là E hop là Stai di là no Direi Di qua Hop E hop Ora Sporgenza qua Direi di no Ah devo andare di là Ok Come se è lenta Come la quaresma Non male Jonah If you can hear me I think I'm still on the path At the spider trial I'm gonna get to the top Di là vero? No di là Dove cazzo devo andare scusa? Devo andare lì? Devo fare il giro immagino Qua cosa c'è? Posso arrampicarmi di là Quindi evitiamo E qua c'è altra acqua Cosa dentro di importante? Ci sono dei rumori Come se fosse dei marchi ingegni tipo Vai raccogliere Qualunque cosa più salva Non ho ancora capito Però raccogli tutto Giada Si trova In il sommers Ah si potrà vendere Anche sta qualcosa Altra giada I'm happy with that Allora giù di qua devo andare Ah è dove ero prima Non ci potevo andare Anche di qua allora Scusa Eh si Che piccio Non l'avevo mica visto Bisogna sempre guardare in alto Allora torniamo giù di qua Non l'avevo guardare in alto Quindi in questi momenti dove non c'è Colonna sonora In mente non sempre ansia È come se dovesse succedere qualcosa E non è una cosa che mi aggrada tantissimo C'è un po' di questo Aggrappati alle pareti Lancia il rampino Conquadrato Ok Quindi E Hoplala Ma dovrò Ok Hop Hop E La Madonna se cadevi Mi incazzavo come una biscia Tra poi non ce n'è Ho visto cosa muoversi Spero di aver visto molto male Prova dell'aquila Fantastico Ah devo fare il giro dell'oca Ovviamente Ovviamente C'è da fare il giro dell'oca Poi Campo base Vediamo se posso potenziare qualcosa L'arco L'arco Io vorrei fare sta cazzo di cosa però Vorrei potenziargli la forza Posso fare questo comunque Cosa serve qua Struttura migliorata Durata e tensione Quasi al massimo Dai Uscire però Rappostare dov'è Le abilità Sono sempre a una di due Giusto Ho sempre un punto di abilità Me lo sto tenendo per un'abilità Che costa due Quindi Andiamo avanti Legna 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 E hop Hoppala E hoppala Vediamo Ah bene Sarà la classica Quando dove tipo So già Dovrò fare qualcosa di strano Tanto per cambiare Ok Abbiamo già capito dove andare Una buona parte Ah Vediamoci comodi Ok Ora Dio fa andare la macchina Ah di qua ok Ah ok Posso andare di qua So far so good Tu vuoi anche saltar giù allora No Io posso Ah potrò Ok Com'è buio Qua c'è qualcosa Qua posso attaccarci una corda Quindi devo attaccarlo da qualche parte Là Poi mi dice che devo attaccarlo là Vero? No Di qua Quante ne so Mamma mia Non ne so più Non ne so più Di qua ok Ok Dovelo fare Capito già Devo fare il classico saltino Stupido Vero Ovviamente Vai Nathan Drake E Hop Che noia Ste tombe Ok Allora Come avevo visto prima Dovevo fare così Vero? Per forza E Abbiamo alzato le tende Ora E ora Devo saltare su quegli affari Pronta la retta? E Hopla Grandissima Lara Aspetta Oh Qua posso cadere Siccome che devo andare qua Che bello Ho già capito come funziona qua Sali Sali Ora No Pelo meno non mi faccio del danno È già una buona cosa Vai Veloce Veloce La retta Sembrava strano che andavano tutti Dovevo andare a fare un altro Di quegli affari là Sicuramente Dovevo andare a fare un altro Di quegli affari là Just like the first Ok Dove devo andare però Di qua Yes E vai E poi mi chiedo I libri Ma quanto potevano essere sofisticati Per fare delle cose del genere Non si può sparare No 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 Quello immagino facesse male Cazzo Di qua Di qua Di qua Ok Sono fuori adesso Via No Tiralo via Flora riproviamoci un altro nooo spiegato una freccia ah che cazzata aspetta ho già capito devo fare questo lavoro qua devo fare vero non così magari c'è lì ok ho visto ho visto 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 easy easy mi fa easy devo attaccarlo qua vero devo fare questo vedi sono facili sono facili facciamo un altro posto dove saltare vero ovviamente e oppa la Lara porca Eva che danno mi ha fatto mi fa tutto danno mi fa tutto danno mi fa tutto danno easy non so come ho fatto ma easy lo stesso qua è un muro arrampicante eh mai disegno quanto sta durando sto video qua per colpa di sta tomba qua poi di più idee di finire questo tempio qua e poi chiudere il video perché salta salta Lara No, 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 no Lara ha fatto boom Ok, capitoliamo Salta lì Lara Salta lì Lara Ok, devo andare là senza farci traranciare come degli idioti Easy Quanto so bravo a sti enigmi Sono cagati in realtà, però Mi piace casare Ora Lara che sono in cima Devo arrampicarmi là sul muro immagino, vero? C'avevo visto giusto Devo fare il classico saltino di merda, vero? Ah, e devo anche prendere il tempistica giusto Devo prendere Vai, arrampicati Veloce, veloce, Lara Oddio, veloce, arrampicati, veloce Cavolo, fai, 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 non lo sento, non lo sento Jonah De Champion Ok, raccogli tutto quello che c'è in giro Brava Lara E direi di raggiungere il prossimo punto di salvataggio Che sarà il prossimo campo Se ce ne sarà uno Funghetti Oh no Atto C'è una cosa qua, visto Niente Non mi servono a niente Devo andare giù di là, devo andare Ah no, c'è la strada aperta qua Lol Can't carry anymore Poi Di qua Oh Easy, pisile Oh 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 Sei infilzata come un idiota 35 minuti Tantissimi sono 35 minuti Caricato? Ok, quindi detto ciò ragazzi Direi che possiamo salutarci qua Tanto c'è il salvataggio automatico Ora che ci penso Non ho bisogno di dover andare per forza al campo base Direi che l'ultima tomba è stata abbastanza lunga Non avevo ancora minimamente capito Cosa avesse ucciso Quei tizzi là Penso che lo scriveremo più avanti E non sono molto contento di scoprirlo Però lo scopriremo lo stesso Quindi ragazzi Detto ciò Ci vediamo dopo domani Per un altro video di Shadow of the Tomb Raider Che lo dobbiamo andare a finire Perché secondo me lo trovo fantastico Non è il livello di Uncharted dal momento Uncharted 4 mi è piaciuto di più Però comunque è un gran bel gioco Comunque ragazzi Adesso vi saluto Grazie per avermi seguito anche oggi Ma quando lasciate un bel like Spoliciatevi sul canale Avitando la campanella Supportatemi in questa serie E come vi dico sempre ragazzi Alla fine di ogni video Ci vediamo domani per un altro video A domani ragazzi Ciao 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 Grazie.